Ieri in serata il Teens Basket Biella si è radunato a Pettinengo, dove la prima squadra, iscritta al campionato unico di Serie C, ha iniziato la preparazione tra campo sportivo e palestra. Il Teens ricomincia con grandi numeri, non solo prima squadra, con la novità Luca Garri in panchina alla guida di un roster giovane, ma anche tanto settore giovanile, con sette squadre iscritte ai rispettivi campionati per oltre 100 tesserati, senza dimenticare il minibasket che punta a superare quota 250. In realtà non ci siamo mai fermati, spiega il presidente D'Agostino. Abbiamo trascorso un'estate in fermento, ragionando, programmando e ponendoci nuovi obiettivi. L'idea resta la stessa, che per anni è stata la base del nostro percorso, creare sinergie sul territorio, cercando partner che abbiano il desiderio e il piacere di condividere i nostri valori e di lavorare per ampliare la base di atleti. Proprio in quest'ottica nasce la collaborazione con Trivero Basket, che condividerà con il Tinson gruppo Under 17. Le sinergie non riguardano solo i rapporti di collaborazione, aggiunge D'Agostino, ma anche con enti e amministrazioni comunali, aspetto fondamentale per potersi radicare nelle comunità. Finalmente quest'anno potremo allenarci e giocare con quasi tutte le squadre a Biella, utilizzando anche la palestra dell'ITI grazie a un accordo con la provincia. Nella prima fase di stagione, Capitano Martino Maffeo e compagni si alleneranno anche al Paietta, nella palestra spazioforma e in quella dell'ITIS. Prima amichevole in programma martedì 12 settembre al Paietta contro Vercelli, team di Serie D. L'esordio in campionato dovrebbe essere domenica 1 ottobre, sempre al Paietta, contro i torinesi della Crocetta. Organizzazione sarà una delle parole chiave. Come spiega Luca Garri, coordinatore anche dell'Academy, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'obiettivo principale e il miglioramento individuale che dovrà riflettersi poi su quello di squadra. Vogliamo creare una scuola di formazione di pallacanestro dove sia gli atleti sia i tecnici abbiano la possibilità di crescere attraverso il confronto quotidiano. Il settore giovanile del teams potrà contare su circa 130 tesserati per le squadre tra Serie C e Under 13 e come detto più di 200 nel mini basket. Questa attività sarà svolta nei centri di Masserano, Cossato, Pettinengo, Biella, Tollenio, Pralungo, Graglia, Valle San Nicolao, Pollone, Boriana, nelle annate tra il 2013 e il 2017.